Quando si parla di turismo dentale bisogna partire da un'idea della dimensione del movimento dei pazienti nel mondo. Gli europei si curano nell'est Europa, per esempio gli americani in centro e sud America, gli australiani si curano invece in Thailandia. Il turismo medico e nello specifico quello dentale fanno parte di un fenomeno che coinvolge da oltre 20 anni tutto il mondo. E' un modo alternativo di acquistare servizi che delle volte sono troppo costosi nel proprio paese, ma non in altre nazioni. Definirlo turismo sanitario in realtà è scorretto. Solitamente faccio questo paragone, cioè se una persona dovesse curarsi a New York e fosse originaria di Boston, sarebbe allora quello turismo sanitario? Oppure supponiamo che tu viva a Milano, capita spesso di avere il dentista in un'altra città, magari Bologna, Roma o Torino. Allora chiediti, in questo caso staresti comunque facendo turismo dentale? Oppure prova a immaginare un dentista che vive e lavora a Milano. Pensi che nel suo studio non sia mai entrato un paziente di un'altra nazione? In quel caso avrebbe fatto turismo dentale il dentista italiano? Oppure un dentista di Londra magari in questo momento sta installando impianti dentali che sono stati fabbricati a Modena. Probabilmente i suoi colleghi lo ritengono un medico che sta facendo turismo dentale. E tu? E' questo turismo dentale secondo te? In realtà ti ho fatto questi esempi per capire che il turismo dentale è un modo di definire il fenomeno sbagliato. Semplicemente si parla di delocalizzazione di servizi, di cure trasfrontaliere. Cure per cui l'Europa ha persino emesso delle direttive che debbono garantire al cittadino europeo il diritto a potersi curare ovunque esso non trovi difficoltà economiche o liste d'attesa. Per come la vedo io il mondo è sempre più piatto ed è facile fare arena con i temi di attualità schierandosi contro il cambiamento in nome della sicurezza del made in. Le distanze sono oggi annullate dai voli low cost che coprono la distanza per esempio Milano-Chicina in un'ora e cinquanta minuti spendendo 80 euro andate e ritorno. Trenitalia da Roma a Milano ci impieghi quattro ore e spendi la stessa cifra. La crescita del fenomeno nel mondo è enorme. Ci sono portali dedicati alle cure trasfrontaliere, centinaia di società, di agenzie e viaggi che organizzano questi viaggi. Deloitte l'ha stimato come un fenomeno in crescita fino al 32% per ogni anno. Così come negli Stati Uniti la telemedicina da anni è comunemente accettata, anche in Europa gli anni futuri sarà sempre più normale essere visitati a distanza per mezzo di un'attacca tridimensionale condivisibile in cloud, con internet, magari con un'altra equipe. Chi ti visita non è necessariamente chi ti curerà. Un dentista che vive a Parigi potrà fare diagnosi su un paziente che vive a Cagliari, simulare la chirurgia computer guidata senza neppure ancora aver visto il paziente. riceverà le impronte scansionate digitalmente con il laser presso un studio di un loro dentista di quartiere. Progetterà la chirurgia ed invierà la programmazione chirurgica digitale per email. Questo dentista stamperà poi per mezzo di una stampante 3D la guida e eseguirà la chirurgia. Esistono oggi stampanti laser 3D o che sinterizzano i metalli, la polvere del titanio e si abbatterà di 100 volte i costi dei materiali. Ci sono già fabbriche che stanno producendo impianti dentali dalla polvere di titanio. Le protesi verranno spedite con DHL oppure stampate in sede. I costi abbattuti fino al 90%. La tecnologia sta annullando le distanze. Oggi acquistiamo prodotti su Amazon senza neppure uscire di casa. In un futuro non troppo lontano ci verranno recapitati a casa con i droni volanti. Anzi, già lo stiamo vedendo. Il VoIP ci permette inoltre di poter comunicare con il nostro paziente che si trova a migliaia di chilometri di distanza in caso di problemi. Questa è la rivoluzione dei mestieri, delle professioni, della sanità, della mobilità, la rivoluzione industriale 4.0. Da poco in Italia ha persino avuto luogo la prima fiera sul turismo medico per promuovere le eccellenze italiane nel mondo ed attrarre nel bel paese pazienti esteri. Non si capisce da che parte ci si debba schierare, a favore o contro questa rivoluzione. Sui media la si combatte, poi in realtà ne si vorrebbe far parte. L'impressione è un po' come tutte le innovazioni che queste debbano passare tre stadi. Il turismo dentale non esisterà più in futuro. Sarà normale curarsi in Europa, come ti dicevo. Nel nord Europa curarsi all'estero è normale. I grossi cambiamenti e in genere devono passare, come ti dicevo, queste tre fasi. Prima vengono ridicolizzati, durante la seconda fase vengono combattuti e una volta giunti alla terza e ultima fase sono ampiamente accettati e condivisi, se non per dire di moda. La stessa cosa in Italia avvenne per il Movimento 5 Stelle, per esempio, oppure per il fenomeno Uber. Le stesse difficoltà ci furono con l'introduzione dell'elettricità alternata in America. La storia insegna innovazione contrapposta ai difensori dello status quo. Nel Regno Unito il turismo sanitario è già in terza fase. Nel momento in cui scrivo questo libro e produco questi video informativi esistono più di 150 agenzie che si occupano di turismo medico. I prossimi anni ne vedrai fiorire tantissime anche in Italia. Il fenomeno del turismo dentale in altre nazioni si trova tra la prima e la seconda fase, come in Italia. È solo una questione di tempo e di diffusione delle informazioni. Il Policlinico che ho fondato è nato come progetto con lo scopo di accelerare questo processo. L'informazione rende liberi. Basterebbe dire a un africano che basterebbe mettere sul tetto della propria casa la bottiglia d'acqua per sotto al sole almeno 48 ore per evitare di morire di disenteria. Le informazioni, grazie a Internet, contribuiscono al cambiamento dell'opinione pubblica riguardo ai temi delle volte scomodi alle lobby. Sdoganano grandi nuove verità o mercati. Le informazioni talvolta evitano le persone di indebitarsi con una banca. Quando si parla di turismo sanitario e ci troviamo in prima fase e viene quindi deriso, chiediamoci perché non si ride di fronte a un listino prezzi di un medico. E se invece ci troviamo in seconda fase e cerchiamo quindi di combattere il fenomeno, perché invece non si combatte con lo Stato che obbliga i medici a sopravvivere sulle spalle dei cittadini con parcelle e fatture per le quali poi alla fine il 50% si prenderà lo Stato stesso con le tasse. Perché i medici non devono essere pagati dalle tasse? Perché le cure mediche non devono essere invece esentasse? E ancora, nel caso ci trovassimo nella terza fase, in cui il fenomeno è largamente accettato e condiviso, perché non ci indigniamo, non si scende in piazza a protestare contro un sistema ladro, la nazione che ci ha fatto pagare per anni le tasse, rinnegandoci poi il diritto alla salute. Ogni euro versato dei nostri contributi è sparito per sempre. Il fenomeno delle cure sanitarie all'estero nasce quando paesi ricchi sono stati messi in contatto con paesi poveri grazie a internet. Allora come il mare, se metti a contatto economie calde con economie fredde, si creano delle correnti, correnti di consumatori. Nascono i cosiddetti turisti dentali. Questo è un fenomeno del tutto normale. L'automobile che oggi guidi probabilmente non è stata progettata magari nella tua nazione, ma è stata prodotta completamente in un altro paese. Oppure come gli abiti che indossi, magari progettati in Italia ma prodotti in Cina. I format dei programmi televisivi che guardi. Il prezzo però, quello è tutta un'altra cosa. Sono comunque prezzi del tuo paese. E in più ti ricordo lo Stato che lucra con le tasse sopra le cure sanitarie. I dottori che riescono a entrare nelle facoltà a numero chiuso dopo la laurea spesso vanno a specializzarsi all'estero. Molti studenti per anni non sono riusciti a passare le selezioni in università italiane e magari vanno a studiare odontoiatria in Romania, Albania a 3-4 mila euro all'anno. Dopo 5 anni, 6 anni sono a tutti gli effetti dentisti europei e possono persino tornare in patria a lavorare nello studio di papà. Poi il papà, parlando magari coi propri pazienti, scoraggerà ad andare a curarsi in quei paesi dove magari i loro figli hanno studiato e preso la laurea. Esiste per esempio a Tirana una università privata dove tutto questo accade. Cosa è quindi il Made in Italy? Chi ci obbliga a consumare il Made in Italy? È realmente poi Made in Italy dal momento che gli impianti dentali sono prodotti in Svizzera, Germania, Israele. Magari i dentisti non sono dentisti italiani ma sono dentisti comunitari della comunità europea. Se in Moldavia un paziente viene curato con impianti dentali o curato su poltrone realizzate, costruite in Italia e il lavoro è stato studiato e progettato e realizzato da un'equipe di medici europei, si potrebbe definire la provenienza di queste cure? Il fatto che ti curi sotto casa non significa che verranno utilizzati solo materiali locali e viceversa il fatto che ti curi all'estero non significa che verranno utilizzati materiali esteri. Probabilmente saranno materiali anche prodotti nelle fabbriche del tuo paese. Parlare di Made in oggigiorno ha sempre meno senso e sempre meno lo sarà in futuro. In definitiva saremmo sempre meno pazienti italiani e sempre più pazienti europei. Rifletti su tutto questo. Un saluto.